Gara sospesa, bello che crea l'unione. Manifestazione sospesa, tutti fermi, picnic qui. Eh no, dicevo, l'unica cosa è che si è fermato in un punto senza la ristorazione. A quante opzioni siamo arrivati? Adesso però forse copiamo. No, se copi la triunf. Dov'è? Non so, non arriva. Come mai sono stati spostati? Eh no, no, aspetta, c'è sempre bisogno di qualcosa di più. Provo, lo sfidami. Cosa ne pensi? Che era mia questa macchina. Questa qua, davvero? Questa tra i tuoi. Quanto devo fare? Non lo ricordo, sai. È anche bella. Qualche anno fa, vero? Cinque. Cinque anni fa. Ma dai. Uno, due, due, tre. Ma dai. Questa. 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 Questa.